Ed eccoci ragazzi in questo secondo video, un video abbastanza importante e cruciale, nella quale appunto vi svelerò qual è il destino di questo canale. Come evidenziato nel precedente video, appunto, ultimamente, in questi ultimi tempi, il canale sembra praticamente morto. C'è davvero molta inattività e quindi questa cosa mette in bilico appunto il futuro di questo canale, perché appunto io faccio questo per passione, ma condivido su questo canale questa mia passione con voi che mi seguite, con voi che mi supportate. E quindi se comunque non ci sono le persone che mi seguono, non può automaticamente esistere il canale di Minerali Extreme. Ho letto sotto l'ultimo video diversi commenti di davvero sostegno e supporto nei confronti appunto del canale e sono contento che vi siate fatti sentire. E in grosso modo, rispondendo più o meno a tutti i commenti, sì, diciamo che l'argomento di Minerali è un argomento non molto conosciuto, specialmente in Italia, un argomento poco trattato e che interessa poche persone, davvero poche persone in Italia. Per questo anche in parte può essere spiegato il cano di attività. Io, comunque, dal mio canto, cerco sempre di portare argomenti interessanti, di attirare l'attenzione in qualche modo e ovviamente di raccontare anche alcune esperienze, alcune cose che mi succedono. Anche... Mi è stato detto anche, ad esempio, di portare per esempio più video sulle escursioni. Allora, qui adesso voglio aprire una grande parentesi per spiegare bene questa cosa. Allora, uno dei problemi che appunto ho per quanto riguarda la programmazione dei video da portare sul canale è proprio questo, ovvero l'indisponibilità di tempo di attrezzatura abbastanza professionale e qua vi spiegherò perché cito anche questa cosa è anche di, come dire, tra virgolette, volontà, ovvero io se devo portare un video sul canale deve essere comunque sia un video abbastanza interessante un video con un argomento che sia interessante ma, prima di tutto, per voi che mi deve piacere a me ma che deve essere interessante per voi e se devo portare un video su un determinato argomento questo video deve avere un determinato montaggio ecco perché ho cercato un po' di evolvermi cercando di portare montaggi via via più belli, più particolari come le sigle delle varie serie, delle varie nuove serie che via via ho portato sul canale solo che montare i video starli poi a editare e poi ancora a caricarli richiede davvero tanto tempo, ragazzi io per un singolo video per fare tutto questo procedimento 5-6 ore e potrebbero anche non bastarmi quindi ragazzi il problema primario è proprio quello del tempo ovvero non ho tutto questo tempo però nonostante questo io ho sempre cercato di portare video sul canale e di portare contenuti con un buon montaggio interessante e tutto il resto però nell'ultimo periodo appunto sto avendo poco tempo molto poco tempo sto avendo anche un periodo stressante lavorativamente parlando e quindi ecco c'è stato un po' un ralentamento anche di questa parte qua in più ragazzi io ho un budget basso quindi non posso permettermi attrezzature chissà quanto spettacolari anche se in questo momento sto utilizzando praticamente il cellulare per registrare questo video io normalmente utilizzo una videocamera una videocamera che di valore può arrivare anche ai 600-700 euro quindi comunque una buona videocamera una videocamera che permette di avere una qualità buona ho anche cercato di migliorare l'audio con questo microfono con questo microfono qui appunto che di tanto in tanto utilizzo anche se nella maggior parte dei casi per mancanza di tempo io direttamente utilizzo audio e video dalla videocamera che comunque sia sono accettabili quindi ecco c'è proprio questa problematica della mancanza anche di tempo oltre che appunto di certi tipi di argomenti come lo sono le escursioni perché effettivamente io qua in Belgio non ho modo di andare a fare escursioni purtroppo tranne quelle poche cose che vi faccio vedere come ad esempio i denti di squalo come ad esempio non lo so i cristalli di augite che avevo fatto vedere un po' di tempo fa io comunque ci provo a portare delle cose però sono molto limitato purtroppo ragazzi però ho cercato di tamponare questa cosa con video sulle new entry video su nuovi pezzi che di tanto in tanto vi porto sul canale e che comunque sia ultimamente sto comprando molto poco e quindi poi piuttosto che farvi vedere una cosa per video aspetto che si accumulino più cose e quindi questo crea anche degli intervalli abbastanza lunghi di tempo sempre per il discorso del budget basso e inoltre ragazzi quello che nel senso quello che comunque manca pure è dell'altro dell'esperienza ovvero di saper fare delle ottime inquadrature ben illuminate come mi è stato fatto notare effettivamente io dal canto mio ci provo però ci vogliono ancora delle migliorie delle attrezzature che appunto al momento non ho e non posso grosso modo permettermi però ragazzi chiusa questa parentesi appunto ecco che cosa succederà adesso allora da adesso inizierà un periodo in cui sospenderò tutti i video tutte le programmazioni tutte le serie tranne forse potrebbe esserci una live domenica una live o un video tra domenica e lunedì potrebbe esserci però non è sicuro al 100% ma comunque sia a parte questo ci sarà questo periodo di inattività di qualche settimana sfrutterò anche le vacanze natalizie che sono per iniziare dove appunto avrò molto più tempo libero sfrutterò queste vacanze per capire come migliorare il canale per cercare di migliorare l'attrezzatura e la qualità ulteriormente del canale e per cercare in qualche modo di trovare argomentazioni sufficientemente interessanti per il canale sufficientemente interessanti per il canale e che siano interessanti soprattutto per voi cercherò di trovare una soluzione all'argomento esplorazioni ma ripeto in questa parte qui sono davvero molto limitato quindi vedrò cosa posso fare e cercherò anche di apportare modifiche migliorie in generale tutto ciò in questo tempo in cui sarà sospesa l'attività sul canale quindi vi chiedo di continuare a sostenere il canale per questo motivo lasciando un bel pollice in su sotto i video che magari ancora potreste non aver visto sotto a questo video iscrivendovi se ancora non l'avete fatto seguendomi su tutti i social e visitando il sito trovate tutti i link in descrizione e anche in un altro modo ovvero io in questo periodo comunque di inattività di tanto in tanto continuerò a pubblicare dei post e alcuni di questi post saranno dei sondaggi che mi serviranno per capire ciò che voi volete che io porti sul canale quindi ci saranno questi sondaggi dove sarete voi a decidere la programmazione io vi proporrò delle cose tra quelle che trovo più interessanti voi sceglierete e vi vi darò la possibilità di scegliere anche quali determinate serie e o video non portare più e quali invece continuare a portare vi do anche la possibilità di scegliere magari qualche altro piccolo dettaglio però questo si vedrà poi più in là quindi andremo insieme a migliorare questo canale youtube quindi ci sarà questo periodo di inattività temporaneo e durerà qualche settimana poi appena avrò le idee abbastanza chiare appena avrò i mezzi e i modi abbastanza sufficienti per riuscire a rendere più appare più interessante questo canale si riprenderà a caricare video quindi non è un addio bensì è un arrivederci ragazzi un arrivederci intanto voi potete tranquillamente continuare a mostrarvi il vostro supporto comunque sia troverete tutti i video già caricati che resteranno sul canale il canale resterà lì però per qualche tempo appunto non caricherò nessun tipo di contenuto perché voglio caricare dei contenuti che siano interessanti che suscitino l'attenzione di chi mi segue e quindi degli argomenti che riportino completamente in vita questo canale perché ragazzi il canale conta 1060 iscritti per la precisione 1063 vedete già nel costo di due giorni due iscrizioni in più però di queste iscrizioni neanche il 10% è attivo e quindi io cercherò di rendere più interessante la cosa nei miei mezzi nelle mie possibilità quindi ragazzi lasciate un pollice insomma anche a questo video supportate sempre il canale e noi ci vediamo non lo so non vi so dire ancora quando ci vedremo tempo qualche settimana se tutto va bene e ragazzi ci rivediamo molto presto ciao ragazzi